E' scontro aperto ormai tra l'azienda per il diritto agli studi e la regione Abruzzo. Oggi non ci sono novità a quanto pare di nomine ma ieri era arrivato l'ultimatum con una nota molto dura del neopresidente del Lazio Antonio Pensa che ha sostituito Liana Morgante che si è dimessa in quanto candidata alle regionali. L'assessore Pietro Quaresimale da noi contattato ha spiegato che gli uffici stanno procedendo alla nomina, ci vorrà soltanto il tempo tecnico. Nomi non ne ha voluti fare l'assessore ma da nostre indiscrezioni filtra che il nuovo direttore potrebbe essere l'ingegner Michele Suriano in Quota Lega che era il responsabile dell'area tecnica e informatica dell'azienda al diritto agli studi. Pensa tramite il proprio legale Massimiliano Placidi proprio ieri aveva inviato l'autato alla regione per chiedere di nominare entro le 20 di ieri sera un nuovo direttore. L'azienda è bloccata perché manca da mesi un dirigente con potere di firma. Da due mesi insomma tutto è in alto mare. I dipendenti sono stati pagati soltanto attraverso un decreto dell'ex presidente. Pensa se l'è presa anche con il PD. Per lui Pietrucci strumentalizza la vicenda per un pugno di voti. Dall'altro lato però il presidente ha tirato in ballo la regione che controlla totalmente l'azzo che non ha nominato in tutto questo tempo un direttore dopo la revoca all'avvocato Paolo Di Salvatore dopo la nota vicenda della graduatoria delle borse di studio pubblicata per errore sul sito. Insomma caos totale incandescente nell'azienda che va avanti secondo Pensa solo per il loro buonsenso. Pensa però smorza ai toni dal punto di vista politico perché secondo lui le responsabilità sono della gestione burocratica. La regione in tutto questo aveva proposto a Lazio un ritorno alla direzione di Luca Valente ma Lazio ha rispedito al mittente la proposta in quanto ci sarebbe incompatibilità e conflitto di interesse dichiarati dallo stesso Valente. Ora la nuova nomina che potrebbe essere proprio quella anticipata da noi.